E' stato un successo il torneo dell'audace organizzato domenica 16 marzo presso il campo del carburo. Un successo sportivo ma anche e soprattutto di solidarietà. I genitori dei bambini che praticano il calcio infatti hanno deciso di organizzare una raccolta fondi da destinare all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze ed in tutto sono stati raccolti 1922 euro. Siamo vicini a chi si trova ad affrontare battaglie importanti, scrivono i babbi e le mamme dei piccoli calciatori ed abbiamo colto l'occasione di questo torneo organizzato dall'audace Isola d'Elba per allestire una raccolta per l'ospedale Meyer attraverso la vendita delle magliette del gruppo Nicco Grulli Fans Club. Questa è una giornata particolare perché non è un solito torneo ma è un torneo dedicato a tutti i bambini dell'Inmeyer. Oggi facciamo una raccolta fondi per tutti i bimbi e i fondi andranno al reparto di onco-ematologia dell'ospedale Meyer. L'entrata in campo dei baby giocatori con le maglie del gruppo è stata salutata dalla lancio di un centinaio di palloncini, quattro sono stati lanciati dagli altrettanti rappresentanti delle società presenti al torneo che li hanno fatti salire in cielo accompagnati dal soffio dei bambini. Un soffio come fanno quelli del Nicco Fans Club, spiegano i genitori, a simboleggiare la forza dell'energia positiva sprigionata dall'amore. Ed è proprio l'amore, continuano i genitori, che ha portato tante persone, che ringraziamo di cuore, a dare la propria disponibilità e il proprio tempo per l'organizzazione dell'evento. Tutti i fondi saranno devoluti al reparto di onco-ematologia dell'ospedale Meyer. Forza Nicco e forza a tutti i bimbi del Meyer!